Il 4 dicembre si celebra la memoria di Santa Barbara. La martire è particolarmente immocata contro la morte improvvisa, allusione a quella del padre secondo la leggenda. In seguito la sua protezione fu estesa a tutte le persone che erano esposte nel loro lavoro al pericolo di morte istantanea, come gli artificieri, gli artiglieri, i carpentieri, i minatori. Oggi è venerata anche come protettrice dei vigili del fuoco. Nelle navi da guerra il deposito delle munizioni è denominato Santa Barbara. Come ogni anno, proprio in occasione della data in cui si celebra Santa Barbara, presso la ditta di estrazione e lavorazione pietra SEPAM di Mistretta, si è tenuta la benedizione da parte dell'arciprede di Mistretta, Monsignor Michele Giordano, dei lavoratori e dei luoghi di questa azienda a Mastratina. Tutti i lavoratori della SEPAM si sono quindi riuniti in preghiera e hanno affidato le proprie sorti e anche quelle dell'azienda in cui lavorano all'intercessione di Santa Barbara. In quest'anno particolare, dovuto alle restrizioni per contenere i contagi da Covid-19, la benedizione dei lavoratori SEPAM si è svolta rispettando le norme anti-coronavirus e indossando le mascherine e si è pregato affinché Santa Barbara, con la sua intercessione, faccia terminare per sempre questo incubo pandemia.